Divertimento e solidarietà hanno caratterizzato la biciclettata di primavera organizzata dalla parrocchia San Giuseppe di Molfetta. Il servizio. Immancabile come ogni anno torna Savio in bici, la pedalata sotto il sole che coinvolge con entusiasmo intere famiglie, organizzata dalla parrocchia San Giuseppe di Molfetta. Canti, giochi di squadra e momenti di preghiera sulle orme di Don Bosco per rispondere alla domanda di aggregazione, condivisione, amicizia. E' una bella invenzione questa biciclettata che è nata proprio qui in questa comunità di San Giuseppe qui a Molfetta, però sappiamo che le radici di questa comunità sono salesiane, perché da ora e 70 anni si respira l'atmosfera di Don Bosco, di San Domenico Savio, questi grandi santi, questi grandi educatori e benefattori dell'umanità, soprattutto accompagnatori e ispiratori dei nostri ragazzi e dei nostri giovani, perché oggi non si può che essere contenti e felici. Sono qui proprio per incoraggiare questi ragazzi a pedalare, a non scoraggiarsi, anche quando magari durante la biciclettata può esserci pure qualche rallentamento, anche una foratura. E' una gara di generosità, di alterità e io mi auguro che sia sempre più invitante questa bella manifestazione, che i lontani si sentano vicini e gli esclusi si sentano parte di noi. Per il terzo anno consecutivo l'evento riserva grande attenzione alla solidarietà, ospitando l'associazione di volontariato Avis, con l'obiettivo di sensibilizzare grandi e piccini al tema della donazione del sangue. Sono davvero una grande squadra, ci fanno sentire in famiglia e soprattutto ci aiutano a diffondere quella che è la cultura del dono. Ricordiamo che la donazione del sangue è un atto completamente gratuito ed è al servizio di chi ne ha bisogno.